Stai attento perchè adesso vengo a prenderti Vengo a prenderti FRAZPLAT Vengo a prenderti Cosa pensi di fare FRAZPLAT? Niente Hai capito FRAZPLAT? Non puoi fare niente Buongiorno carissimi Oh questa telecamera Buongiorno carissimi questo elettrico Accidenti Mi sono sconquassato il cervello questa mossa Ma rimbalzato da una tempia all'altra Comunque sia siamo su Splatoon 2 E oggi gioco con voi Con voi che mi avete inviato 150 e oltre richieste d'amicizia Alle quali sono stato a rispondere quasi tutta la notte Andiamo a vedere quanti di voi sono online Ce ne sono parecchi Cioè ho accettato la richiesta di moltissimi Come potete vedere Wow quanta gente Ma adesso online ci sono questi qua Quindi ci aggiungiamo alla partita di qualcuno Che ne dite di aggiungerci alla partita di FOKUNO10 Ciao FOKUNO10 Se stai vedendo questo video sappi che sto giocando con te Viceversa anche gli altri si possono aggiungere alla mia partita con estrema facilità Infatti ieri ho giocato con moltissimi di voi Li ho più o meno riconosciuti tutti E c'è da aspettare 2 minuti e 16 Questo ha appena iniziato Quindi scusa FOKUNO Ma ne troviamo un altro Andiamo da Frasplat Con cui ho giocato anche ieri mi sembra Che sia giunto una mia partita Un saluto quindi a Frasplat A un certo Stefano A Alex con la faccetta col 3 38 secondi erano più che bene Giuseppe06 Ricordati controlla la cacchio di mail Cavolo Giuseppe 3 2 1 Entriamo nella partita di Frasplat Mi sono fatto anche una lista di voi per riconoscervi Perché non mi ricordo a memoria tutti i vostri nomi Purtroppo il Nintendo Switch non mi avvisa quando si aggiunge un mio amico alla partita Quindi devo riconoscervi Che antipatia questa cosa Frasplat è uscito alla partita mi sa Teo c'è Teo Teo è uno di noi mi sembra Fammi controllare No però Teo c'è un altro nome davanti Frasplat eccolo lì Ciao Frasplat Si stanno collegando online altre persone ho visto? Altri amicicci? Ho avvisato su Telegram che stavo per giocare In questo modo insomma per poter giocare con più di voi possibile PeoTube sono contro Frasplat Siamo contro mio caro Frasplat Quindi non avrò pietà sappilo Io non ho pietà di voi, di te, di nessuno Non me ne frega niente Io sono una brutta persona proprio in generale Punto fare un sacco di punti sempre Coloriamo tutto Coloriamo tutto Wow wow mi sta sparare Via Wow uno è morto Chi era non lo so Non era Frasplat però Non so chi tu sia Non sei un mio amico Quindi dovevi morire Oh l'Ilow mi ha ammazzato Almeno non è stato Frasplat Si non faceva la figuraccia Wow 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 Mi stava per colpire con l'arma speciale la ragazza o ragazzo che sia Bene siamo tutti uniti Uniti L'unione fa la forza Oh Frasplat Sei morto anche tu Però mi hai ammazzato Bravo Frasplat Bravo Frasplat Frasplat Con il pennello Oggi voglio anch'io provare nuove armi In questo video In questo video proveremo nuove armi Hai capito Pam Muore l'Ilow Ah lì vedo uno Uno solo Uno Aspetta che voglio lanciare la mossa Più persone Sono due Tre Pam Farò male Splatterò Frasplat Adesso voglio puntare a Frasplat Uh qualcun altro c'ha quella stessa mossa Papapapam Linken O come cazzo ti chiami Eccolo Frasplat Eccolo Frasplat No Guarda come scappa Guarda come scappa Frasplat Frasplat dove sei Oh No Linken ammazzato Però muore anche lui 35 secondi Ancora non sono riuscito a ammazzare Frasplat Ti sto puntando Frasplat No è morto Frasplat Stava lì Mi dispiace amico Frasplat Pam Ammazzati a vicenda Però va bene È giusto così 16 secondi 15 Cosa riesco a fare in 15 secondi? Un ceppo di niente vero? Corri 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 Fate diventare tutto verde acqua Tutto verde acqua Dai che abbiamo vinto questa No abbiamo perso questa Questa è persa si vede Più Bebebe Frasplat Scommetto che è tutto merito tuo Questa vittoria No perché sei l'ultimo posto Quindi Frasplat Devi darti più da fare E l'illow che ha spaccato Io primo posto nella mia squadra Nuovo livello anche Biuuuu Amazing Mi piace il casco che ho Praticamente Se tu scarichi la Nintendo app Sul Su Splatoon 2 Tu puoi ordinare Dei vestiti Si rinnovano ogni 2 ore E se ne vedi uno Tipo con 3 spazi liberi Quindi uno a 3 stelle Lo ordini Te lo trovi fuori dalla lobby Che parli con uno E glielo compri Molto figa questa cosa Perché mi ricordo Che su Destiny ad esempio E tu dovevi più o meno Giocare ogni giorno Per vedere cosa c'era Nell'equipaggiamento giornaliero No? Invece così Più simpatico Perché se un giorno Puoi giocare di meno Pace no? Non succede niente Non succede niente di male Bene 3 persone Più 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 Morta Ho splattato qualcun altro Frasplat Muore Frasplat E lo ammazza Lo ammazza Frasplat Frasplat ci hai provato Col pennello Ma la forza del pennello Non è stata sufficiente Non è stata sufficiente Adesso ti risparo Frasplat Frasplat in the house Eccolo lì Frasplat No è nato Pum Morto Teo Mi ha ammazzato Teo Non so chi tu sia Se sei amico mio Oppure no Ma comunque sia Se è stato forte Ma hai paccato il culetto Frasplat in the house Io ho ammazzato Frasplat Quindi sono più che contento Che voglio ammazzare Quelli nella mia lista Amici Così che non siano più Miei amici Mi odino Non odiarmi per questo Ovviamente Frasplat Due là No ne ho beccato uno solo Vabbè Succede niente Non succede niente Oh l'ho splattato Ho ammazzato Teo Grande Grande mago Wow Frasplat Dalle spalle Mi ammazza Frasplat Blu Non va bene così Signor Frasplat Non mi fa impazzire Quando mi ammazzi tu Lasciati ammazzare Solo da me Non morire Quindi resisti Che adesso vengo a prenderti Frasplat dove sei Frasplat dove sei O lì c'è un altro Ah mi ha ammazzato Per prenderti Frasplat Vengo a prenderti Cosa pensi di fare Frasplat Niente Hai capito Frasplat Non puoi fare niente Guarda la scia di Frasplat Che ha lasciato qui E questa volta La vittoria è nostra Però hai capito Frasplat Con il peo Non si scherza mica Certo stavolta Mi sa che ho fatto Pochi punti Perché mi sono concentrato Troppo sulla morte Di Frasplat Dovevo ammazzarlo No però comunque primo Primo Come sempre Lilo mi sembra che sia Dei nostri No aspetta Sto controllando la lista Ma devo un attimo Vedere quelli che si sono Aggiunti alla partita No dovevo uscire Perché devo provare Un'altra arma Vabbè sarà per la prossima Abbiamo Matteo 5 2 8 E dei nostri Sì ti ho qui nella lista Teo ma tu sei Tu sei mio amico Perché in questo foglio qua E non mi sono entrati Proprio tutti Tutti no E non c'ho voglia Di fare due fogli Con i vostri nomi Quindi va bene Tutti quelli dalla M In poi Non mi sono entrati Quindi se c'è qualcuno Col nome sotto la M Spero che vi riconosciate In questo video Perché io non Non vi ho messo nella lista Ma non per cattiveria Perché non mi entravate Ok stiamo in squadra Con Matteo e Frasplat Quindi tre amici questa volta Quindi Frasplat Datti da fare con quel pennello Non mi farà arrabbiare Che prima ti c'è dato Tanto da fare per ammazzarmi E molto che ti ha da fare Per ammazzare gli altri però Non è che Non è che puoi sempre Solo ammazzare piccolo Peo No? Non si fa Pam! Tre persone No 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 Morto L'hai provato zio Con la tua arma speciale Ma no Datti da fare Frasplat e Aspetta che riempiamo tutto Di questo bel rosa Acceso Questo fucsia E noi l'azzurro oggi Non ci piace il colore del male Vai Frasplat Stiamo con Frasplat Grande Frasplat Ti dico pure che sei grande Cioè Grande Frasplat Hai visto che mi ha ammazzato? Grande Glielo dico pure Guarda un po' No Frasplat è morto Morto Mi dispiace ragazzo Ci hai provato Ho splattato Flocon Non so se sei un mio amico oppure Due là Papapapapam No mi ha ammazzato l'inco E' morta anche lei Chi è stato a ammazzarlo? Non lo so Grande però Qui bisogna colorare bene tutto Perché questi sono punti che contano Qua loro non ci possono arrivare Quindi tanto vale sempre stare bello Bello colorato di rosa No mi ha ammazzato con la mossa finale Anche se l'ho ammazzato anche io Guarda Frasplat come spara le cose Con il jetpack Come si va da fare il nostro caro Frasplat È rimasto un minuto Un minuto per fare puntarelli Non posso dimostrarmi di essere da meno di Frasplat Né tanto meno di te o di Matteo Che non ho capito se stanno Sono amici miei oppure no Oh bomba Bravo Frasplat Guarda come ammazza Frasplat Bravo Frasplat Guarda come uccide Come uccide Letale Frasplat Letale Lecce ne uno Due Oh sono morto Pam L'ho ammazzato però Bastardo Nanni si chiama Non ne frega niente dei nanni Né dei nanni Né di nient'altro Sette Bomba Questa l'abbiamo vinta sicuro È tutto rosa È tutto fucsia Porca zozza Guarda Un 63% È tantissimo Ragazzi Ci avete provato Ma insieme a Frasplat A te Matteo 528 Non avevate speranza Mimbro mi ha battuto Con il punteggio Questa volta Non sei amico mio però Quindi non ti saluto nemmeno In questo video Non te lo meriti Oh 3000 bonus Stile Adesso io cambio un po' Le armi per variegare Direi che si può provare L'aereografo Visto che ce l'ho qua Poi vorrei provare anche il secchio Che lancia proprio le secchiate Capito? Però adesso mettiamo l'aereografo Perché già ce l'ho qui Già l'ho comprato Vediamo quale amico Posso aggiungermi C'è Blade92 E nominato nel video scorso Secondo me Claudio Fa il caso nostro Claudio Deve essere una bestia Io lo so Claudio Che tu sei forte Tu sei forte Se mi stai contro Però Buschi Stai attento Perché poi viene a cercarti Oh mio dio Perché mi sale L'istinto serial killer Quando gioco con voi Due minuti Ma che sei matto Scusa Scusa ma no Forse Gabriele Fa il caso mio Gabriele Vengo a cercarti Molto buono C'è da attendere un minuto Così nel frattempo Rispondo ai messaggi Di Whatsapp Tanto vale che aspettavo l'altro Ma va bene Anche se verrà un video Più lungo del solito Oggi voglio provare più armi E giocare il più possibile Con voi A costo di fare un video Di 30 minuti Hai capito? Forse è solo una scusa Perché voglio giocare a Splatoon Però sono connesso Tramite telefono Hotspot portatile Quindi è meglio Non esagerare con le partite Mi finisco il traffico Della settimana Bene abbiamo Blade92 Che si è giunto Gabriele anche E Joshua Joshua è uno dei nostri No Io ce n'ho uno Che ho scritto con l'h Joshua O forse l'ho scritto male io Vabbè comunque sia Blade92 E Gabriele Sono dei nostri Un saluto a voi Anche Andrea è entrato online Ti vedo Andrea Tu sei una bestia Ma penso di arti superato Con l'utilizzo delle pistolette Perché ieri Non mi hai ammazzato Molte volte Andrea Stai attento Che Peo migliora Vista d'occhio Poi io gioco col motion controller Che Sembra di no Ma Mi dà un Effettivo vantaggio Che ti piaccia o no Guarda le bombe che ho lanciato Mai lanciato così tante bombe In vita mia Piu 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 Oh Attenzione Attenzione le bombe Pau 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 Ma ci hai provato ragazzo Chiunque tu sia Pau 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 Ammazzato T'ho ammazzato Brutto zazzo T'ho ammazzato T'ho ammazzato Ok sto impazzando Si vede che sto impazzando un pochino Oppure la mossa finale carica Ma non la voglio usare Se non vedo qualcuno Che minacci La mia incolumità Tipo ora Piu 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 Morti tutti Piu Oh quanti sono morti Oh abbiamo fatto un macello Abbiamo fatto E questo io sto in squadra Con il signor blade Che è una bestia Pure lui Pure lui non scherza Il signor blade Oh 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 Pau 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 Morto Wow Mi ha ammazzato Si era nascosto Gabriele Grande Gabriele Hai visto Gabriele Hai visto signor Gabriele Che però Ti ho ammazzato anche prima Quindi stai attento Che adesso arrivo Vengo a cercarti Gabriele Non ho visto Che stai contro di me Ma adesso che lo so Adesso che lo so Beh Beh In me sale l'istinto omicida Dal solito istinto omicida Che mi contraddistingue Abbiamo anche L'armatura inchiostro Che qualcuno dei nostri Ha usato Quindi siamo proprio Al top Al top siamo Io la bomba appiccicosa Ho ammazzato qualcuno? No Si ho ammazzato Gabriele Ha Gabriele Ha L'avevo detto che venivo a cercarti Pau 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 Ammazzato Gabriele Due volte Ah ci hai provato Gabriele Ci hai provato Gabriele È il momento di usare la mossa speciale Ammatto Ammatto Ho detto Piu Piu Che macello Sono andato un po' fuori di testa oggi Non vi disiscrivete Sono sano di mente Guarda è tutto arancione È tutto arancione Piu 1653 punti 71% Mai fatto così tanto Mai fatto così tanto Mi trovo bene con l'aerografo Devo dire ragazzi 2118 punti Screenshot Mai successo che io abbia fatto così tanti punti Minchia Minchia Abbiamo pure uno Uno sblocco del potenziamento Del casco Piu Certo Un'altra partita con l'aerografo Non ci sta molto male Si è giunto Giulio Giulio uno dei nostri Aspetta fammi controllare Giulio uno dei nostri Grande Giulio Quindi adesso abbiamo Gabriele Giulio Blade92 E forse qualcun altro Perché non ho fatto in tempo Controllarli tutti Superanto forse Giulio Frasplat Frasplat si è riaggiunto E siamo contro No Ci sono tutti contro i miei amici Non va mica bene questa cosa Signori miei Non va mica bene Non va mica bene questa cosa Non va mica bene Non va bene questa cosa Giulio Mi ha ammazzato Grande Giulio Grande Giulio Che si vuole subito far vedere In questo video Per farmi il culetto E non va bene Non è che puoi sfoggiare Le tue abilità sopra il Peo Non è che Peo può essere La tua bambola gonfiabile Capito che prendi Tratti come ti pare No 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 Giulio Non si fa Adesso ti vengo a cercare Te l'ho detto Giulio Che ti venivo a cercare Te l'ho detto Gabriele Che ti venivo a cercare Ci hai provato Gabriele Ci hai provato Ci ha provato Gabriele Oh attenzione Sto per morire Frasplat Maledizione Frasplat Mi fai arrabbiare Frasplat Mi fai arrabbiare Guarda quel Frasplat Ce l'ha sempre con me Io non capisco perché Ce l'ha sempre con me Frasplat Io sono una persona Tanto brava Sono tanto bravo Tanto gentile con tutti Io non ho capito Giulio Una capriola micidiale Che è morto Anche Blade è morto Grande mossa finale lì Tempismo perfetto Per quella mossa Chiunque sia stato Della mia squadra Si erano incastrati all'angolo Quindi è stata Un'ottima mossa Accidenti Chi è arrivato lì alle mie spalle Giulio Sempre tu Accidenti Giulio Mi fai arrabbiare Mi fai arrabbiare Giulio Quando Peo si arrabbia Poi diventa Un po' matto Un po' matto Ma manco tanto Guardalo Guardalo Gabriele mi ha ammazzato Porca zozza Guarda che bastardi Tutti quanti Adesso devo puntare Ad aggirarli Perché adesso Con mancanza di 30 secondi Quello che ci serve È vernice Del nostro colore Quindi Sta tutto nel muoversi Cercare di colorare Il più possibile In poco tempo Accidenti Frasplat Mannaggia Guarda Frasplat Questa l'abbiamo persa Contro voi tre insieme È un bel macello Contro i tre miei amici Ci hanno fatto il culetto Pam Almeno non è proprio Così devastante Come sconfitta Sempre primo Tra i miei Ma Giulio Hai spaccato Con 2056 punti Ragazzo Hai capito Anche lui Con le capriole Se ne intende Ma adesso Io cambierei arma E ne proverei un'altra 27 minuti Di registrazione Minchia Armi Ma qui abbiamo Questa nuova Con l'armatura Di inchiostro Appiccicabombe Molto buona Ma io vorrei provare Anche il secchio Perché lo vorrei Semplicemente provare Qui c'è il gatling Addirittura Questo visto che Lo usano in molti Nelle partite pro Già ho superato Il livello 10 Con l'altro profilo Comunque adesso Prendiamo il secchio Ah qui c'è un Lorenzo Due Lorenzi abbiamo Ci aggiungiamo Ah superanto Era con noi Visto Superanto era con noi Ci aggiungiamo La partita di un Lorenzo Quello con la faccina A forma di cane Dimmi che c'è da aspettare poco Ti prego Vuoi provare il secchio 1 minuto e 55 Cristo Guarda la gente Che entrata Davide Claudio Andiamo da Al completo Cavolo No al completo no Andiamo da Davide Oh siamo entrati subito Siamo con Davide Ciao Davide Ti saluto sul video Adesso ti prenderai un po' di secchiate in faccia Se mi stai contro Perché non ho mai provato quest'arma Se non nella Salmon Run Che sono tipo Una modalità in cui sconfiggi Orde e orde di nemici Salmoni appunto Salmon Run Si dovrebbe capire Comunque no Siamo in squadra insieme Mio caro Davide Quindi Più secchiate Lancio le secchiate E io Pam pam Si però mi sembra che Non mi piace moltissimo Come le sparge Non è un gran che In questo senso 3 Pam 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 Mamma L'ho secchiato Pam pam Guarda questo Era arrivato fino a qua A 3 persone Mossa finale Non me la cavo Tanto bene Ancora con questo Vedete Non c'è chiappo Non Non vernicio dove dico io Forse devo andare in posti No Mi ha ammazzato quella cosa finale Filippo Sarà uno dei nostri Non lo so Perché C'hai la P E io oltre la P Non ci sono arrivato Nella mia lista Nella mia lista Morto Filippo Ci hai provato A colorare tutto di blu Ma il blu non ci piace qui Morto anche quest'altro Che non so che cacchio fosse No Con le bombe Ho ammazzato Porca cazzozza Qui la mia squadra Dov'è? Sta facendo qualcosa La mia squadra? Davide stai facendo qualcosa Non mi far arrabbiare? Non mi far arrabbiare? Davide che se mi sta in squadra Dopo contro Io tengo a cercare Accidentaccio Siamo in due col secchio Corri Fai diventare tutto Arancione Grande Aspettiamo un attimo Due persone Morto 3 2 1 Cacchio 1 è arrivato fino in fondo Non ci siamo accorti Ha fatto un sacco di punti Quello 41 47% Questo secchio Non mi è piaciuto molto il secchio Cioè forse è soltanto questione di allenarci col secchio Ho fatto comunque più punti di tutti Male non è Cambiamo al volo l'arma Proviamo il pennello Proviamo proprio un sacco di armi oggi Vediamo se questo pennello ci porta da qualche parte Da quel che so non è molto potente nell'uno contro uno Se mi trovo davanti uno con le pistolette mi sarei devo scappare Ma io voglio solo colorare tutto il più che posso La macchina me ne frega niente Io coloro tutto Hai capito? Tutto Tutto ho detto I miei compagni sono andati tutti avanti Oh una bomba robò Stanno morendo i miei amici E anche io Vediamo un po' se ce la facciamo ammazzare qualcuno con sto pennello scemo Pennello scemo in the house Guardate come corre col mio pennellino Ah la bomba Io l'ho ammazzato però Wow Non ho visto quella bomba Non l'ho proprio vista Cristoforo Sto facendo pochi punti Un minuto per recuperare Wow Pam L'ammazza nonostante il pennello nell'uno contro uno Cacchio mi ha ammazzato sempre lui Maledetto Lucky Ci sa fare con quell'attrezzo eh Lucky Ah ci ammazziamo vicenda E vabbè Kimo ci stanno usando tutti il cacchio di rullo oggi Pochi punti Pochi punti oh Mannaggia Kimo guarda Questi con rullo gli basta un colpo dato bene Ti ammazzano Cristio Guarda i punti che hanno fatto Vabbè comunque abbiamo vinto Bonus vittoria Mille punti Secondo posto Va bene comunque sia Per essere la prima volta che uso sto pennello Bene dopo così tante partite Sicuramente vi ringrazio di essere stati con me Ringrazio tutti coloro che mi hanno aggiunto Tra i amici Aggiungetevi anche a vicenda Scambiatevi qui sotto il codice amicizia Perché no? Le mie partite sono sempre più ricche insieme a voi Vi inizio a riconoscere E' divertente Tutto qui quindi Un saluto a tutti quelli che hanno giocato con me in questo video E se vi è piaciuto mi raccomando Mostrate un po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su Sempre ricordando che questo era elettrico Oh gli occhiali Ho lanciato letteralmente gli occhiali Grazie a tutti